Un cordiale bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori, un nuovo appuntamento con la nostra rubrica TV City Focus, l'occhio lungo sulla città, ospitiamo quest'oggi in studio con noi l'avvocato Michele Polese, vice sindaco della città di Torre del Greco e assessore con delega ai lavori pubblici, tra le altre al PNRR, all'edilizia scolastica e alla viabilità, le maggiori di una serie anche più lunga di delega, ma oltretutto è anche componente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Bentrovato assessore e benvenuto nel nostro studio, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a lei, un saluto a tutti i telespettatori. Allora iniziamo subito con la prima domanda, parliamo di argomenti che nell'arco dell'ultima settimana, della settimana in corso, hanno destato molta opinione pubblica, hanno fatto anche molto clamore in città. Partiamo innanzitutto con una ultima disposizione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella sul ripristino del doppio senso in località Sant'Antonio. Da dove nasce la esigenza di questa delibera, nello specifico che cosa accadrà il prossimo 15 novembre, considerato che il doppio senso è istituito soltanto sul tratto di via Purgatorio fino alla rotonda di Sant'Antonio, sull'intero tronco di via Alcide dei Gasperi, mentre il viale generale Carlo Alberto dalla Chiesa ex Viale Campania dovrebbe a tutt'oggi restare a senso unico. Prego Assessore. Sì, voglio chiarire innanzitutto una cosa. Non è un provvedimento che noi andiamo a prendere per ripicca o un provvedimento capestro verso chi negli anni passati lo ha adottato. È un provvedimento che nasce dall'ascolto che è stato fatto in campagna elettorale, dall'avere avuto l'orecchio a terra sul territorio e da più parti, ma veramente da più parti, ci è stato richiesto di rivedere quel piano di viabilità perché lo si riteneva gravoso da un lato per il commercio, dall'altro anche con aspetti di pericolosità perché con strade a due corsie si è portati ad avere una velocità molto più elevata e in quei tratti parliamo di vero e proprio centro urbano e come terza ipotesi anche un problema di vie di fuga eventuali e anche di protezione civile laddove è risaputo che quella fluidità che oggettivamente si ha nel percorrere via nazionale, via purgatorio nel tratto dopo la chiesa di Sant'Antonio e allo stesso tempo via generale dalla chiesa viene meno essendo di fatto una circolare nella misura in cui si blocca a valle o a monte una delle strade e per cui tu hai allo stesso modo il blocco di due strade principali che collegano Santa Maria Labruna con il centro cittadino per cui anche aspetti di protezione civile ci hanno portato a riconsiderare quel piano traffico. Dico di più, dico che è una cosa che ci hanno chiesto i residenti, molti residenti, abbiamo fatto a Palazzo Baronale nel mese di luglio scorso delle riunioni, abbiamo anche un verbale di riunioni con cittadini, commercianti delle zone interessate che ci hanno praticamente richiesto di rivedere quel traffico che era penalizzante dal punto di vista del commercio e dal punto di vista anche della pericolosità visto che si era portati a correre il mondo. Per cui oggi noi ritorniamo in parte a quello che era il piano traffico che da sempre vi era stato a Torre del Greco rifacendo diventare doppio senso quel tratto di strada che va da Sant'Antonio fino all'imbocco con la circunvolazione e rifacendo diventare la prima parte di Via dei Gasperi nuovamente a doppio senso. Voglio dire che è un'idea sperimentale, quella che stiamo portando avanti, ci potranno essere e vi dico, ripeto, il nostro interesse è cercare di fare andare bene le cose, di far stare bene i residenti nei luoghi dove abitano, di far stare bene se è possibile la città. Quindi il work in progress è costante. Monitoriamo, rivediamo, ripensiamo le cose momento per momento, partiamo così probabilmente da mercoledì 15 novembre, siamo aperti chiaramente a fare quelle piccole modifiche laddove queste dovessero essere necessarie. Dico di più, l'idea almeno iniziale è di lasciare Via Generale dalla Chiesa a senso unico com'è perché lì noi abbiamo tre scuole e una caserma dei Carabinieri. Chiaramente avendo tre scuole, Nautico, Liceo Classico e la San Francesco d'Assizi, che è una scuola media, più la caserma dei Carabinieri, è chiaro che avere il doppio senso crea qualche problema specialmente all'uscita delle scuole. Ma questo non toglie che monitorando, ripensandoci eccetera eccetera e tenendo sotto controllo la situazione non si possono fare anche su quell'asse viare dei piccoli ritocchi così come in generale sul tratto che arriva a Via Circonvallazione. Assessore, una curiosità, si dice che per snellire la viabilità oggi l'indirizzo generale sia andare verso i sensi unici come anche attraverso e verso le rotatorie che favoriscono il flusso veicolare. Perché si ritiene che in questo caso, almeno su quella zona, il doppio senso potrebbe sgravare o decongestionare quella che è la circolazione? Io la ringrazio per questa domanda perché i telespettatori sanno che sono una persona che si occupa della cosa pubblica da molto tempo. È vero che negli ultimi 5-6 anni ho fatto il privato cittadino dedicandomi interamente alla professione, poi sono ritornato in gioco, ma chi si ricorda un po' le cose del passato sa che quando ero all'opposizione nel biennio 2015-2017, allora quando alla fine dei lavori di più Europa venne ristituito il senso unico così com'è, io in consiglio comunale fui artefice di una polemica verso l'amministrazione dell'epoca e tra le cose citai proprio quelle da lei dette, dottor Perillo, che è vero, lei dice una grande verità, oggi la tendenza è andare verso i sensi unici, ma se noi vediamo poi questa tendenza guardandola con una mappa, vogliamo fare l'esempio degli Stati Uniti dove esistono le avenue e dove esistono le parallele poi alle avenue eccetera eccetera, ma noi parliamo però di tratti viari e di spazi molto più grandi, cioè noi non dimentichiamo che con l'attuale senso di marcia, i camion e ribadisco i camion a piazza Palum devono girare verso la chiesa di Santa Maria del Carmine andando verso Venezia facendo una manovra che in pratica li porta a ridosso della macederia insomma che è ubicata in quel punto lì, diciamoci la verità, se fosse una vera e propria circolare e allora noi potremo anche pensare che quella è la modalità viaria migliore, ma oggettivamente c'è quell'imbuto che nessuno può togliere e che ripeto in caso di blocco della circolazione poi porta problemi di ingestibilità della situazione. Grazie Assessore, cambiamo argomento, lavori pubblici, altro argomento che ha insomma addestato l'opinione pubblica in città, la consegna della scorsa settimana del primo tratto della bretella di collegamento da via Sant'Elena, località rotonda autostradale, sino a via Lamaria. Una fotografia del progetto perché è un progetto che attraversa tre amministrazioni se non addirittura anche quattro perché si pensa che sia nato durante il mandato dell'ex sindaco malinconico, quindi siamo alla quarta amministrazione che però vara il primo tratto. Qual è il progetto nell'organico, quali sono le ulteriori tappe da aggiungere e da concludere e poi alla fine quale saranno e quale sarà la previsione dei tempi? Allora, rispondo per gradi. Sicuramente oggi noi avevamo un'esigenza di dare viabilità alla zona di via Lamaria. Perché? Accadrà che di qui a qualche giorno, non è stato fatto perché l'ho chiesto espressamente io, anche per avere diciamo un'idea di quella che è circolazione stradale che si andava a creare, noi avremo la chiusura del ponte di via Lamaria il che avrebbe impedito ai cittadini di via Lamaria di percorrere quel tratto di strada e arrivare a Sant'Antonio. Con la nuova viabilità istituita con la bretella, i cittadini di via Lamaria potranno giungere a ridosso del centro percorrendola. Nel frattempo noi, ribadisco, di qui a qualche giorno chiuderemo il ponte perché era previsto che andassero fatti dei lavori, il ponte dovrà essere adeguato, i cittadini di via Lamaria sono penalizzati perché determinati tipi di autobus lì non possono arrivare, esiste un solo autobus diciamo delle linee che arriva lì e che ha diciamo l'altezza per poterci arrivare e quando si rompe le persone, i residenti della zona, Cappella Carotenuto eccetera eccetera rimangono di fatto isolati perché poi l'alternativa sarebbe via del monte però chi conosce la zona sa che non è agevole diciamo arrivare semplicemente a via del monte. Quindi la prima idea era questa. L'intuizione è un'ottima intuizione, è chiaro che probabilmente con una programmazione un attimino diciamo più affinata si poteva prevedere anche il secondo lotto e il terzo lotto a realizzarsi, non dico in contemporanea ma con tempi maggiormente contingentati. Allora quella strada avrà un senso nel momento in cui verrà riaperto, credo dalla chiusura passeranno circa due o tre mesi, chiusura che avremo di qui a qualche giorno del ponte di via Lamaria, riaperto il ponte di via Lamaria io credo che diciamo bisognerà poi pensare a questa viabilità per dare un senso diciamo all'intero progetto e quindi ipotizzare che dalle palazzine per così dire di via Lamaria popolari si possa arrivare a via del monte e questo sarebbe un secondo tratto e poi un terzo tratto che sarebbe a carico della società autostrade sarebbe quello che va da via del monte a via dei monaci. Noi come amministrazione dovremmo impegnarci a portare avanti questo secondo lotto cioè via del monte proprio per dare un senso a quest'opera e per creare una nuova viabilità. Allo Stato ci sono due progetti, uno abbastanza vecchio, uno invece un po' più recente ma è un progetto preliminare, di progetti esecutivi non ne ho trovati, è chiaro che dovremo lavorare per creare un progetto esecutivo che poi è quello che è la vera e propria fattibilità diciamo dell'idea e metterla sul campo e procedere perché altrimenti quell'opera così com'è non ha una viabilità. Dico subito che se non è agevole durante le ore di punta del traffico percorrere via la maria e quindi imboccarsi sulla nuova bretella io devo essere onesto che laddove non si parla di ora di punta e con poco traffico diciamo che si arriva diventa comodissima, si arriva all'autostrada in niente e di questo va dato atto. Grazie Assessore, cerchiamo di coniugare entrambe le domande e quindi entrambe le risposte qualcuno parla di un depotenziamento rispetto alla istituzione del prossimo doppio senso su località Sant'Antonio rispetto all'apertura di questo primo tratto della bretella col collegamento di via la maria, ritiene che sia fondata? No, non la condivido perché penso che i due assi viari procedano in modo indipendente anzi l'un asse viario aiuta l'altro e quindi non farei una questione di inutilità dell'intervento su via la maria, anzi io dico che nella valutazione dell'amministrazione comunale, perché queste sono cose ribadisco, pensate, cioè qui non voglio essere tra virgolette patetico ma insomma a volte non si dorme per pensare alle soluzioni del proprio perché poi mi rendo conto che quello che noi decidiamo influisce sulla vita delle persone e su una città di oltre 80.000 abitanti quindi sicuramente no, ma ritengo che non abbia nessuna connessione, anzi io penso che siamo stati invogliati a rivedere il piano traffico proprio perché avevamo quest'ulteriore possibilità perché è chiaro che tutte le persone che da via la maria, via boccea, via ruggiero eccetera eccetera che devono andare sull'autostrada oggi lo potranno fare percorrendo questi tratti di strada e inserendosi sulla bretella. Cambiamo argomento, parliamo di PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza, l'amministrazione Palomba, l'amministrazione uscente aveva messo in cantiere una serie di progettualità diverse, se ne ricordiamo qualcuna tra le maggiori, la cittadella dello sport, la riqualificazione di via litorania, dei molini marzoli, la digitalizzazione ed altri impegnando una cifra di oltre 46 milioni di euro. Tante di quelle progettualità erano state già appaltate, altre in fase di procedura d'appalto. Qual è la fotografia al momento delle progettualità in campo del PNRR? Restano quelle? L'amministrazione ne prevede altre o ne aggiunge altre? Voglio fare una premessa di carattere generale, ma sarò velocissimo dottor Perino. Noi parliamo molto di PNRR, ma in realtà sono più progetti che si accavallano su interventi sulla nostra città. Si può parlare di PNRR, si può parlare di PICS, eccetera, eccetera. Tutte queste sigle che per il cittadino, diciamo, un po' lontano dalla pubblica amministrazione non significano niente, ma sono tutta una capacità progettuale che si va ad innestare e che ci consente come pubblica amministrazione di poter fare delle cose. Sì, è vero, progetti che vengono dalle passate amministrazioni, dalla passata amministrazione. In cantiere, e questo lo abbiamo fatto noi in tempi record, abbiamo appaltato la cittadella dello sport. Quando io sono arrivato era in fase di appalto l'impianto natatorio e la riqualificazione delle palazzine popolari di Via Lamaria. Abbiamo sicuramente un progetto sulla Litorania, che non è un vero e proprio progetto PNRR, ma è un progetto con la città metropolitana, che prende sempre fondi dal Ministero dell'Interno, ma che ha un'articolazione amministrativa e burocratica un po' diversa, visto che è in contemporanea con altri comuni viciniori, eccetera. C'è il piano di erosione costiera, che sarebbe una cosa da farsi anche alla luce di quello che è successo domenica con lo sprofondamento. Infatti questa è un'altra domanda. Con lo sprofondamento, vabbè, non le brucio la domanda, ne parliamo dopo. C'è un'idea del progetto di un waterfront, che potrebbe addirittura cambiare i connotati della nostra Litorania, andando a proteggere la spiaggia, creando tutta una zona anche di passeggiata, eccetera, eccetera. E chiaramente sono progetti che abbisognano di fondi cospicui. Devo dire che abbiamo su questa molta sintonia con la Regione Campania, grazie anche a consiglieri regionali del territorio. Io non ho problemi a ringraziare l'On. Loretta Naraia per la vicinanza diciamo che è quotidiana, è istituzionale e che ci serve come punto di riferimento in Regione Campania, ma devo dire anche l'On. Casillo ci dà una grossa mano su queste tematiche. Io dico sempre con i piedi per terra che se riusciamo a fare la metà di quello che abbiamo in corso, è un grandissimo risultato e io francamente metterei la firma e dico anche il perché. Il Sindaco mi tirerà l'orecchia perché il Sindaco giustamente vuole fare tutto e noi auspiriamo di poter fare tutto, però i cittadini lo devono sapere. Noi ci confrontiamo con una macchina comunale che è purtroppo del tutto inadeguata a far fronte a questa miriade di progetti che abbiamo in atto. Ci sono professionalità elevatissime all'interno del Comune, io lo voglio dire, ma le risorse umane sono pochissime. Lo ribadisco, le risorse umane sono pochissime. Rispetto al 2016, oggi noi abbiamo giusto un quarto dei dipendenti che avevamo allora. Nel 2016 eravamo circa 600-700 dipendenti, oggi ne abbiamo nemmeno 200 per capirci. L'unità operativa lavori pubblici del Comune di Torre del Greco di qui a qualche mese con i pensionamenti ulteriori che ci saranno sarà formata da un ingegnere e da un geometro. Queste cose i cittadini le devono sapere. Il PNRR e tutti i progetti collaterali che bisognerebbero di monitoraggio quotidiano, e alla fine noi lo facciamo il monitoraggio quotidiano, attenzione, ma lo facciamo a costo di grandi sacrifici dei funzionali tecnici e degli istruttori tecnici e dei dirigenti che abbiamo sul pezzo. Quindi per capirci il PNRR abbiamo un ingegnere dedicato, una unità che cura la parte legale e abbiamo un coordinatore tecnico che nel frattempo è coordinatore tecnico dell'edilizia scolastica e della manutenzione degli immobili comunali. È un lavoraccio in mane infinito, io ringrazio veramente tutto il personale dell'ufficio tecnico che con grande sacrificio riesce a portare avanti questi progetti. Ma i cittadini lo devono sapere, lavoriamo in condizioni proibitive. Grazie, grazie Assessore, ringraziamo ovviamente tutti i dipendenti del Comune, chi lavora. Voglio fare una piccolissima chicca, noi abbiamo in cantiere dei concorsi, però chi capisce di pubblica amministrazione sa che non è che si possano inventarli alla sera alla mattina. Ringrazio, grazie Assessore, grazie anche veramente a chi assicura e lavora, nonostante tra mille difficoltà, assicurando il proprio servizio a disposizione della collettività e della comunità. Quello del personale è un argomento che abbiamo già dibattuto nelle sedi precedenti, ovviamente è un argomento che parte a monte anche da un ragionamento, da un'idea governativa che ovviamente noi abbiamo ritenuta monca perché prevedere la possibilità di prepensionamenti o di pensionamenti attraverso la quota 100 e non prevedere contestualmente un canale di reimmissione in circolo delle unità che eventualmente è stato un errore, che ovviamente si è ribattuto, ovvero abbattuto a raffica sulle territorialità. Noi abbiamo unità che in pensione vengono a lavorare o che in ferie vengono a lavorare. E per questo ringraziamo chi assicura nella quotidianità. Restiamo ancora in tema di progetti, restiamo ancora in tema di dialogo e di rapporti con la regione Campania. Lei citava l'onorevole Rai all'onorevole Casillo, il sindaco Luigi Mennella, proprio in queste ore ha fissato e ha ottenuto la possibilità di un incontro in regione Campania su un'altra questione che insomma ha interessato la nostra comunità cittadina. Domenica scorsa lo anticipava lei con l'apertura di quella voragine in località litorania dovuta poi al cedimento del tratto superiore del marciapiede per l'azione erosiva del mare nel corso del tempo. Lei lo ricordava tra i fondi PNRR c'era anche una progettualità messa in campo dalla precedente amministrazione che era quella di contrastare la mitigazione della erosione costiera. Si può fare affidamento su questa progettualità? Quale si auspica poter essere gli esiti dell'incontro in regione Campania? Nel concreto cosa si chiede alla regione Campania? Il progetto di erosione costiera l'idea sarebbe di integrarlo con quello del waterfront che consentirebbe di avere una protezione della spiaggia attuale e comunque della linea di costa che consentirebbe anche di avere più metri quadri di spiaggia e quindi estenderla e quindi una fruibilità del litorale da parte degli utenti ancora maggiore. Se pensiamo che l'idea è avere il mare bandiera blu con gli impianti di depurazione che si stanno portando avanti e che ormai di fatto sono una realtà, l'idea di migliorare il litorale sicuramente è un'idea che può essere in proiezione turistica una chiave di volta per una città che comunque sebbene non lo è ha una spiccata vocazione turistica quale è la nostra torre del greco. L'SOS del sindaco è stato un SOS appropriato, giusto perché chiediamo alla regione ancora una volta di starci vicino e di darci fondi per poter ancora di più migliorare la protezione delle nostre coste purtroppo domenica si è verificato lo sprofondamento di una parte di marciapiede del primo tratto della litoranea dovuto al fatto che il mare con la sua opera di penetrazione era addirittura arrivato sotto sotto la strada, non sotto la strada, sotto il marciapiede creando poi quel vuoto che fa sprofondare la cosa. Abbiamo fatto fare delle verifiche, problemi al di là di quello che è successo non ce ne sono, l'ufficio tecnico è già intervenuto, è chiaro che dovremo ripristinare quel tratto di strada, stiamo capendo dove prendere i fondi perché poi teniamo tanti altri progetti di manutenzione strada eccetera eccetera impegnati, riqualificazione, via teatro lo dicevo ieri sera in consiglio comunale, il parcheggio Palatucci, tutta la zona Porto Scala dove insistono le giostrine, abbiamo le ville comunali in questo momento, le due ville quella salvo d'acquista a San Antonio e la in quella che comunemente diciamo villa comunale, noi diciamo le persone del centro storico e che sono oggetto in questo momento di interventi manutentivi, abbiamo tante cose che bollano in pentola, il sindaco ha dato una accelerata incredibile che condivido e insomma come suo collaboratore, vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, condivido questa linea sul nuovo stadio, insomma da farsi e che si va a integrare con gli altri due interventi della cittadella dello sport, veramente abbiamo tanta tanta carne al fuoco, ecco insomma ci lavoriamo e compatibilmente con quelle che sono le risorse e avremmo piacere di riascoltarla, umane ed economiche, cerchiamo di portarle avanti. La ringrazio, arriviamo alla chiusura della nostra trasmissione, anche per lei una domanda di politica nazionale, lo possiamo fare, eleviamo il tono del nostro ragionamento, lei è componente dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico, in calendario il prossimo 11 novembre dal segretario Elislein, una manifestazione a Roma per protestare, per garantire e assicurare i diritti dei lavoratori, delle case, insomma per una protesta contro il governo Meloni. Abbiamo, allunghiamo l'orizzonte, si va verso le europee, quali sono gli orientamenti delle coalizioni, c'è una idea di coalizione, come intenderà muoversi il Partito Democratico, muoversi e presentarsi alle prossime scadenze nazionali. Beh, partiamo sicuramente dalla manifestazione di sabato, alla quale parteciperò insieme ad una delegazione del circolo territoriale di Torre del Greco, partiremo con un pullman insieme agli amici di Torre Annunziata e parteciperemo direttamente alla manifestazione a Roma. Ritengo che sia un momento di confronto, sarà un momento sicuramente anche per poter, tra virgolette, gridare, ma con modo diciamo educato, come è il nostro stile, rispetto a tante ipotesi che ci sono e che un poco fanno paura. Le ipotesi di definanziamento del PNRR sono ipotesi concrete. Voi immaginate che cosa significa definanziare un progetto che hai in atto con appalti integrati, appalto integrato, lei mi insegna, è una modalità che provvede alla progettazione esecutiva e all'esecuzione. E quindi immaginate che cosa significa questo o che significa nella revoca della sospensione del patto di stabilità. Ora, io non voglio tediare i telespettatori con sigle e fatti di natura amministrativa, economica e gestionale, però voglio dire, il patto di stabilità significa mettere nuovamente lacci e lacciuoli all'azione degli enti locali. Quindi è chiaro che, insomma, io personalmente non sono contro pregiudizialmente nessuno. Se è un governo che dà risultati, sono il primo a dire che il governo dà risultati. Però poi quando di fatto i risultati non si vedono, diciamo, stiamo precipitando nuovamente in un momento di stagnazione economica, di questo noi dobbiamo iniziare a prendere atto. E questa è la prima parte della domanda, sarò velocissimo. Sulla seconda parte, sì, avremo l'impegno alle europee, io spero che riusciremo come gruppo umano che fa, diciamo, si vede, si confronta e che insieme a Loredana Raia, insieme a Mario Casino, ma anche insieme a Raffaele Topo, un uomo di una grande esperienza politica, speriamo di poter riuscire ad esprimere una candidatura autorevole all'interno della provincia di Napoli che possa rappresentare anche Torre del Greco al Parlamento europeo. Europa, che è sempre più, diciamo, da tenere in considerazione, visto il livello decisionale dell'Unione europea che ha ormai diretta influenza sulla vita dei cittadini. Sulla vita dei cittadini e anche sugli equilibri del mondo. Io spero proprio, insomma, che l'Onorevole Topo ci possa onorare della sua candidatura. Io ringrazio l'Assessore Vice-Sindaco Michele Polese, grazie di essere stato con noi e in nostra compagnia. La riascolteremo, la rincontreremo allora sullo sviluppo delle progettualità che oggi abbiamo anticipato. Grazie a TV City, che è una realtà del nostro territorio, una bella realtà e grazie ai telespettatori per l'attenzione. Grazie Assessore, io ringrazio anche tutti i nostri amici e telespettatori per averci scelto anche questa settimana, per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie a lei, Dottor Pelini. Grazie Assessore, con il nostro occhio lungo sulla città, con TV City Focus, buon proseguo, buona serata in nostra compagnia. Grazie a tutti i nostri amici e grazie a tutti i nostri amici.